La squadra mobile Meneghina ha diffuso queste immagini del presunto killer di Marilena Negri, la 67enne assassinata con una coltellata al collo, il 23 novembre 2017 a Milano. Si tratta di un video costruito con le immagini registrate tra le 6.45 e le 7 circa dalle telecamere del comune e dai sistemi di sorveglianza privata, che immortalano l'arrivo dell'uomo da via Cialdini e la sua fuga dal parco di Villa Litta, dove la donna era stata aggredita a pochi istanti prima, presumibilmente per rapinarla della collana. Si tratta di una catenina d'oro con un ciondolo col volto del marito. Il sospettato, come mostrano queste immagini, è presumibilmente un giovane di corporatura non particolarmente robusta, di altezza media, con un'andatura particolare. La camminata ciondolante potrebbe essere un atteggiamento o svelare invece un problema ad una gamba. La questura di Milano chiede a chiunque avesse informazioni sul ricercato o sulla collana di contattare il numero di telefono 349 45 66 310, anche attraverso Whatsapp.